Elbiz è la soluzione ecologica più efficiente per muoversi a Milano, Torino, Roma, Verona. Grazie ai monopattini e alle bici elettriche Elbiz arrivi puntuale e rilassato a qualsiasi appuntamento e migliori la qualità dell'aria nella tua città. Elbiz riduce le emissioni fino a 63 volte rispetto all'auto. È importante rispettare il codice della strada, evitare marciapiedi, non trasportare passeggeri. Scarica l'app e guida con prudenza. Elbiz, il numero uno nella micromobilità elettrica in Italia. Grazie.